Il cronometro ce l'hai? Il cronometro. Sì, scarica peso, vale, sai? Sì, sì. Ora a sinistra, ora a sinistra. Mettiti in guardia, mettiti in guardia. Non ti castrare su una sola posizione, vale, vai tranquilla, vai tranquilla, cerca di tirarla giù. Ok, va bene, va bene, lavora, lavora, con calma, con calma. Sì, vale, sì, vale, sì, vale. Chiudi con le gambe, chiudi, chiudi. Metti peso, metti peso, metti peso, esci. Vai verso la sua testa. Bravo, brava, tieni. Metti peso, tieni. Occhio a quel braccio, vale. Esci, vale, esci da lì, esci. Va bene, va bene, perfetto. Chiudi, chiudi. Ok. Ora, tiri con le gambe dritte e tira giù. Chiudi, chiudi, chiudi. Ok, va bene, va bene. Puoi anche ribaltare da quella posizione, eh. Chiudi, chiudi, chiudi. Chiudi, chiudi, chiudi. Chiudi, chiudi. Sì, sì. Su adesso, su, vale. Ok, esci, esci. Dall'altra parte. Dall'altra parte esci, vai, sedere dall'altra parte, ok, esci, 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 ok, gira, movimento, brava, brava Vale, va bene, brava Vale, si, si, si Vale, ok, si, si, girati Vale, non di schiena, girati Vale, no, girati Vale, via, 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 scrollatela Vale, brava Vale, va bene Vale, va bene, va bene, metti peso, ok, brava Vale, occhio qui, eh, 5 secondi Vale, 5 secondi Vale, stop Stop!